Mr. Carter, è arrivata finalmente questa vittoria interna che attendavate da tanto, una vittoria che vi dà anche un certo tipo di morale per come è arrivata? Sì, devo dire che è arrivata finalmente la vittoria ma è arrivata finalmente anche una prestazione importante da parte dei ragazzi che questa settimana dopo un confronto diciamo così anche dovuto di martedì abbiamo decisamente, penso, cambiato passo insomma in tutto e per tutto. In settimana abbiamo lavorato su dei concetti e abbiamo chiesto alla squadra di applicarli poi nel calcio giocato perché come al solito è facile disegnare le cose su una lavagna, poi il campo è sempre quello che ti deve restituire il risultato. Il risultato è venuto in maniera anche eclatante perché insomma è un risultato roboante che non deve trarci in inganno, anzi deve essere da stimolo per continuare a lavorare come abbiamo fatto questa settimana. I ragazzi sono talmente intelligenti che hanno già dimenticato quello che è successo un quarto d'ora fa in campo e stiamo già pensando alla prossima partita e quindi al prossimo allenamento che ci deve portare a preparare la gara in maniera molto importante anche perché andiamo a giocare in un campo difficile in Campania quindi ogni volta che si varca il mare le partite sono sempre tremendamente difficili. Mister, la sfida tra penultima e ultima della classe, ben cinque gol di differenza, poteva arrivare addirittura il sesso di differenza negli ultimi dieci minuti, quanto questo risultato dice che questa posizione in classifica vi sta stretta? La classifica purtroppo è giusta perché nel calcio parlano sempre i numeri, i numeri dicono che fino a prima di questa partita noi eravamo la squadra che avevamo fatto peggio di tutte, per cui giustamente dovevamo occupare l'ultima posizione. Se poi pensiamo che la squadra in una classifica che ho letto in questa settimana, fatto da uno di questi siti che si occupa di calcio delettantistico dove ci davano prima in classifica in termini di esperienza, il rapporto minutaggio giocato dalla serie D in su, ci davano prima in classifica. E probabilmente questo è diventato veramente uno stimolo anche per i ragazzi, perché l'abbiamo letta tutti quanti insieme, siamo rimasti veramente sbalorditi da questo e ci siamo fatti tutti quanti un esame di coscienza e oggi il campo ha dato prova che i ragazzi non meritano assolutamente di occupare la posizione che abbiamo in classifica e speriamo di uscirne presto. Finalmente è arrivata quella concretezza che è mancata in altre occasioni, anche perché insomma per come avete interpretato la gara, tanta pressione sulla palla, sul possesso, avversario, ripartenze rapide e questo ha dato i suoi frutti alla fine. Ripeto, l'ho detto prima, in settimana abbiamo lavorato su dei concetti di gioco che abbiamo chiesto alla squadra fortemente che venissero applicati anche in partita ufficiale. Questo è avvenuto per molti tratti della partita in maniera decisamente corretta rispetto alle indicazioni che abbiamo dato e per cui penso che la strada che abbiamo tracciato questa settimana sia la strada giusta, quella da perseguire per questo campionato. Mister, penso alla gara col Pomezia che avevate perso 2-5 e riprendo questo collegamento per fare un esempio. Ricordo che già al primo gol subito c'era stato uno scollamento totale di squadra, scollamento che oggi non si è visto dopo il calcio di rigore che poteva comunque completamente cambiare l'equilibrio dell'incontro. La squadra è maturata anche mentalmente? Penso di sì, penso di sì perché abbiamo fatto anche altre belle partite pur andando sotto, faccio a mente locale, la partita di Caserta dove avevamo di fronte una signora squadra, siamo andati sotto al primo tempo eppure siamo rimasti in partita fino alla fine. domenica scorsa non siamo stati così brillanti però abbiamo avuto la forza di rimanere in partita fino alla fine perché dopo il 2-0 l'abbiamo riaperta con Mancoso sul 2-1 e sai la squadra ti bombarda, ti prende i pali, il portiere fa grandi parate ma se non concretizzi alla fine è una mezza palletta. Tant'è vero che domenica scorsa io ho fatto una battuta, se avessimo pareggiato probabilmente dovevamo scappare via perché c'è la vergogna ma il calcio è così, il calcio è tremendamente concreto e quindi o tu fai gol altrimenti vai in balia degli avversari. oggi siamo stati bravi dopo il calcio di rigore a gestire quei momenti che potevano essere veramente difficili poi soprattutto per una squadra che mentalmente ancora secondo me non è guarita, ha qualcosa ancora e quindi secondo me la prestazione invece che è venuta dal rigore in poi deve essere sottolineata perché i ragazzi sono stati veramente molto molto bravi.